GIOVEDÌ DELL'OTTA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù un Nazareno, cominciò a gridare e a dire — Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. — Figlio di Davide, abbi pietà di me! Gesù si fermò e disse — Chiamatelo! Chiamarono il cieco, dicendogli — Coraggio! Alzati! Ti chiama! Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse — Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose — Rabbunì! — Che io veda di nuovo! E Gesù gli disse — Va! La tua fede ti ha salvato! E subito vide di nuovo, e lo seguiva lungo la strada. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Un cieco Una strada Gesù che passa Un grido Un grido più forte Una domanda Una guarigione Potremmo sintetizzare così Il racconto del Vangelo di oggi Che sembra descrivere attraverso la storia di quest'uomo La condizione di ciascuno di noi E i rischi che, a volte, come chiesa corriamo Infatti, è proprio di ogni uomo Rimanere bloccato e fermo su una strada Quando non vede più un senso Un motivo Un orizzonte E quando ciò accade Si può solo mendicare la vita Non viverla Ma, anche in una condizione simile Gesù può venire a salvarci Per farlo Usa la chiesa Che altro non è Che un popolo che fa sentire la sua presenza Sentendo Che era Gesù Nazareno Cominciò a gridare e a dire Figlio di Davide Gesù Abbi pietà di me Noi Non siamo Gesù Ma di fatto Siamo ciò Che più lo dovrebbe ricordare Annunciare Indicare E davanti a un annuncio simile L'unica preghiera possibile È quella di questo cieco Allora egli gridò Gesù Filo di Davide Abbi Pietà di me Non è Una preghiera Composta Misurata A bassa voce Non è Un esercizio di stile E di equilibrio È la preghiera Urlata Di chi sta Annaspando Di chi sente la possibilità Di un cambiamento Che davvero può Capovolgere la vita La preghiera Quando è vera Assomiglia Al grido di quest'uomo Ma Paradossalmente Davanti alla compostezza Di questo cieco La medesima folla Che aveva Annunciato Il passaggio Di Gesù Diventa ostacolo Molti Lo rimproveravano Perché tacesse Ma egli Gridava Ancora più forte Figlio di Davide Abbi Pietà di me Può sembrare Schizofrenico L'atteggiamento Di chi annuncia E poi sgrida Ma è quello che Sovente Capita Anche oggi Nelle nostre comunità Da una parte Annunciamo E dall'altra parte Siamo Noi stessi Il motivo Per cui L'uomo Disperato Di oggi Non incontra Gesù Fortunatamente Però Gesù È più forte Anche della nostra Mediocrità E sa Ascoltare Contro ogni Tentativo Di mettere A tacere Gesù Si fermò E disse Chiamatelo Chiamarono Il cieco Dicendoli Coraggio Alzati Ti chiama Dicendoli Dicendoli Dicendoli